Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncobilaccio fino al 28 febbraio. Rimanendo in A1 ma in direzione Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze e Impruneta e Incisa Reggello. In A11 per lavori di ripristino d'anni a seguito di un incidente, stanotte in orario 22.6 resterà chiusa l'entrata di Prato Est in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze è stato sospeso l'obbligo di spostare le auto in occasione della pulizia delle strade. Non multe e rimozioni fino al 31 marzo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!